buongiorno a tutti allora finalmente non c'è più ranteghino non c'è più ranteghino meno male è passato è passato se ne è andato fuori dalle balle domani anzi oggi perché ora che vedrete questo video sarà già giovedì al mattino alle 8 sguiscerò come un biscione guanti la mascherina non ce l'ho mi metterò una sciarpona mega galattica tripla andrò a fare la spesa sperando di non trovare in giro nessuno perché magari alle 8 sono tutti lì che se la dormono belli tranquilli poi è giovedì non è sabato andrò a fare la mia spesa per tutta la settimana anzi forse per anche dieci giorni che così a me non sono a posto per un po e poi tornerò nel mio piccolo mondo antico detto questo che credo non vi fregherà più di tanto qua continua a esserci le luci lampeggianti sa che la ragione sarebbe siccome sto usando la luce quella al risparmio energetico non vorrei che mi stia registrando sta facendo fu 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 o forse si sta semplicemente riscaldando vabbè detto questo tre notizioli veloce veloce da leccarsi le orecchie una è un po lunghina ma riguarda una cosa che probabilmente adesso ne state facendo incetta perché ecco il fatto che siamo perennemente a casa a tazzurriarlo caffè magari la ne bevete anche di più vediamo cos'è la questione il bicchiere d'acqua va bevuto prima o dopo il caffè ecco cosa dice una ricerca dell'università di trieste notizia di fine gennaio 2020 entriamo in un bar e ordiniamo un caffè quale che sia la tipologia della ricetta lungo espresso macchiato mocaccino in ghiaccio con latte di mandorla che d'estate proprio libidine il barista ci dà un bicchiere d'acqua c'è chi la offre liscia chi frizzante chi se la fa pagare chi la mette nel bicchiere di vetro chi nel bicchiere di plastica chi la dà insieme al caffè chi qualche momento prima ma la domanda che in tanti si saranno fatti da sempre da quando hanno iniziato a bere questa gustosa bevanda che noi italiani siamo tanto maestre nel preparare è ma il bicchiere d'acqua va bevuto prima o dopo una possibile risposta la data la scienza secondo l'università di trieste infatti la questione è semplice l'acqua va bevuta sempre e comunque prima del caffè l'uso del bicchierino d'acqua prima dell'espresso ha spiegato a wired il direttore dell'ateneo moreno faina è fondamentale per uno dei nostri sensori principe la lingua la lingua per ottenere il massimo apprezzamento sensoriale occorre rimuovere il più possibile i residui che ostruiscono le papille gustative la composizione del liquido dell'espresso è tale che alcune delle molecole sono così piccole da potersi fissare nelle papille gustative se bere acqua prima del caffè da una valorizzazione sensoriale berla dopo significa vanificare immediatamente il gusto del caffè attraverso un lavaggio delle papille appunto gustative faina anche aggiunto che a volte bevendo caffè si possono sperimentare alcune astringenze dovute a chicchi poco maturi in altre parole questa bevanda può dare una sensazione di secchezza delle fauci e quindi si sente il bisogno impellente di bere acqua e di setarsi poi chiaramente c'è anche chi fa un caffè pessimo certo se uno tra se una di noi va a prendere il caffè al bar è perché oltre al vantaggio sociale c'è anche il fatto che dovrebbe essere meglio di quello fatto a casa con la caffettiera e in quel caso il bicchiere d'acqua è utilissimo a togliersi il saporaccio dalla bocca senza scomodare la scienza esiste però da sempre un bon ton legato al bicchiere d'acqua rigorosamente prima del caffè se la si beve dopo chi ha preparato il caffè potrebbe prenderlo come un insulto una sorta di calateo della ceble breve vanda marrone è stato stilato sul blocco di caffè verniano innanzitutto bisogna essere cordiali e gentili quando si entra in un bar si deve salutare parlare chiaramente con il barista il rispetto però deve essere reciproco per cui se si chiede un caffè particolare fuori menù anche il barista dovrebbe mostrarne al cliente magari spiegandogli che non può essere disponibile quello che lui chiede ma che ci sono tante ottime alternative in menù e che il cliente può palesare intolleranze allergie o determinate abitudini alimentari in modo da venirgli incontro a meno che non è proprio una rompi puntini puntini naturalmente il cliente non deve cambiare idee in itinere in itinere hanno voluto scrivere la parola libidine quello che è stato ordinato deve essere difeso fino alla fine il cliente può non bere ma deve necessariamente pagare perché la sua indecisione è stata la causa del disservizio non il personale del bar e non è inoltre bene chiedere tutto prima se si desidera un dolcificante e questo magari non è presente già al tavolo non tutti i locali hanno questa usanza o serve un tovagliolo in più o un cucchiaino basta chiedere ringraziando sempre e comunque c'è infine un modo giusto per bere il caffè non si solleva il mignolino si porta la tazza alla bocca e con noi non la bocca alla tazza bene la bocca alla tazza non mi sembra il caso meno che uno vuole fare come quelli che si bevono la la vodka al volo non i bicchierini fanno il caffè si mescola con il cucchiaino che poi deve essere posato sul piattino quindi né sulla tavola né si può leccare mentre la bustina di zucchero o dolcificante vuota aiuto deve finire anche quella nel piattino una ovviamente una volta finita la propria gustosa bevanda ci si pulisce la bocca bene fatemi sapere cosa ne pensate del come si beve il caffè come lo bevete voi se col se prima dopo l'acqua se l'acqua non la bevete resistete vi tenete il sapore del caffè anche se ci avete una sete della peppina magari sarebbe meglio bersi l'impossibile prima di acqua e poi bersi il caffè così troppo nel corpo comunque non sente il bisogno di acqua perché ne ha bevuta a sufficienza veniamo una notizia brutta 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 del 23 di gennaio certo rispetto a quelle che abbiamo adesso questa è una notizia all'acqua di rose però una cosa molto molto antipatica perché è sempre brutto riguarda comunque il rispetto e l'educazione civica che una volta si insegnava a scuola ma adesso non la insegnano più manda all'inazione al rifugio rosalba la rabbia dei gestori nella giornata di del 23 appunto gennaio scorso i gestori della struttura della grignetta hanno infatti trovati pannelli solari letteralmente presi a sassati da ignoti denunciando l'episodio pubblicamente sulla propria pagina facebook e sporgendo denuncia alle forze dell'ordine mattia e ales ne hanno approfittato per lanciare un messaggio forte al o ai responsabili chiarendo che questo ignobile gesto non li farà certo desistere dal proseguire l'attività al rifugio queste le parole possiamo solo sperare di individuare l'autore di questo gesto di vigliaccheria in modo che possa pagare di tasca sua il notevole danno che ha recato alla struttura ovviamente abbiamo denunciato alle forze dell'ordine siamo certi che il responsabile ci sta leggendo bene allora sappia che non ci siamo arresi in passato di fronte alle minacce e ai tentativi di boicottaggio non ci siamo arresi quando abbiamo rilevato la gestione di un rifugio che stava letteralmente cadendo a pezzi lo abbiamo ristrutturato ammodernato rendendolo accogliente e soprattutto adeguato alle norme igienico sanitarie in vigore sicuramente non ci renderemo nemmeno ora di fronte a un gesto indicibile i gestori invitano chiunque avesse visto qualcosa a comunicarlo garantendo loro la massima riservatezza nelle eventuali segnalazioni ecco quando si si va a danneggiare le proprietà altrui eccetera è sempre una cosa brutta perché questa è gente che poverini ci hanno messo dei soldi per ristrutturare una cosa che come hanno detto stava andando a pezzi è un rifugio quindi non è che deturpa l'ambiente o che cosa o stanno facendo bracconaggio o quant'altro offrono un servizio alla grignetta quindi non vedo perché qualcuno debba fargli dispetti o quant'altro però sapete ognuno ha le sue libidini quindi ci sono anche libidini che non sono delle libidini però se tu ce le hai anche se fai delle cose brutte c'è poco da fare se c'è la libidine quando scatta scatta e poi si fanno queste cose brutte 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 veniamo alla terza notiziola che riguarda gli smartphone perché non l'oggetto smartphone ma la presa che serve per caricarlo che è basilare anche quella per citare un famoso romanzo italiano questo caricabatterie unico unico non sa da fare questo è il nocciolo del pensiero di apple che non intende accettare la proposta dell'unione europea relativa alla standardizzazione definitiva dei caricabatterie per gli smartphone la scorsa settimana il parlamento europeo ha emendato una proposta di legge per ribadire che il caricabatterie comune deve essere un requisito essenziale per tutti i dispositivi radio ovviamente la decisione andrebbe a colpire quasi esclusivamente apple l'unica compagnia a utilizzare l'acning l'acning uno standard proprietario sviluppato nel corso degli anni e attorno al quale ruota un grosso ecosistema di prodotti anche di terze parti per ribadire il concetto ed esprimere il proprio no deciso il colosso di cupertino ha commissionato uno studio a copenhagen economics portando i risultati a supporto delle proprie tesi difensive crediamo che una legge che obblighi all'uniformità nella tipologia dei connettori rallenti l'innovazione invece di migliorarla e sia destinata a danneggiare i consumatori europei e l'intera economia secondo lo studio i benefici dell'adozione di un connettore di ricarica unico 13 milioni di euro messo tra parentesi sarebbero annichiliti dal costo per l'intera operazione circa 1,5 miliardi di euro senza contare ovviamente le tonnellate di rifiuti speciali che verrebbero generate dalla rottamazione dei vecchi alimentatori secondo quanto emerso dallo studio almeno il 49 per cento dei cittadini europei utilizza diversi tipi di caricabatterie nelle proprie abitazioni e solo lo 0,4 per cento degli intervistati ritiene importante questo problema ciò non toglie che una soluzione universale potrebbe rivelarsi migliore per tutti soprattutto se fosse estesa anche a notebook e altri dispositivi elettronici la commissione europea pubblicherà a questo riguardo un proprio studio nel quale analizza e valuta l'impatto di un caricabatterie unificato i dati dovrebbero essere resi noti entro la fine del mese di gennaio o al più tardi nei primi giorni di febbraio fateci sapere nei boss dei commenti se ritenete utile avere un solo connettore per caricare tutti i dispositivi elettronici o se pensate con una soluzione simile potrebbe rallentare l'innovazione piuttosto che stimolarla ecco è una domanda che faccio anche a voi francamente ci sono i cinesi che ce li hanno universale a 3 euro quindi è una domanda che magari non ci può fregare nemmeno perché uno di solito si compra il suo smartphone nuovo ha già il suo caricabatteria associato solitamente la vita dello smartphone va di pari passo con quello del caricabatterie quando cambia lo smartphone a meno che uno lo tratta male eccetera cambia anche il caricabatterie non è che ti danno lo smartphone senza caricabatterie ti dicono usi quello vecchio che va bene ancora no quindi teoricamente io ne ho sempre usato uno solo quando finiva lo smartphone cambiavo lo smartphone ma non è che cambiavo avevo il caricabatterie funzionava ancora anche il caricabatterie anzi di solito dura il caricabatterie ancora in buone condizioni lo smartphone ahimè alla batteria che è caput e quindi lo devi sostituire o simile comunque niente fatemi sapere voi cosa ne pensate della questione caffè dei vandali e anche del caricabatterie unico se vi piacerebbe avere un caricabatterie che vi carica lo smartphone vi carica il tablet lo potete usare anche per il computer eccetera 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 detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao